Musica Buonasera Assessore Buonasera Ma come è andata la sua passeggiata? Benissimo Si gira bene Si vedono tutti gli stand organizzati bene Effettivamente devo dire che La location che abbiamo trovato è eccezionale Bella ampia Si gira molto molto bene L'ha comprata la padella per cucinare il trunzo stufaterro? La padella l'abbiamo comprata l'anno scorso Quest'anno abbiamo comprato la scopa e qualche spugna Sta andando forte quest'anno il mocio Il mocio alla fiera De moglie ha comprato due moci Un articolo di donna due caldo Due moci, la spugna, ora vediamo di comprare qualche cosa D'accordo Io ho dato il mio contributo Tanti saluti dai residenti di via Fabio Va bene, grazie